Ha approfittato della quiete di un lunedì di metà agosto a Piacenza il bandito solitario che ha colpito la banca popolare di Lodi di via Farnesiana. Alle 14 e 30, orario di apertura della filiale, si è introdotto come un normale cliente senza destare alcun sospetto. Era vestito casual ed aveva il volto scoperto ma parzialmente travisato da un paio di occhiali da sole. Una volta all'interno ha infilato una mano in tasca fingendo di estrarre una pistola e ha manifestato le proprie reali intenzioni, urlando la classica frase con accento italiano, questa è una rapina. A quel punto dal bancone con una mano ha arraffato il denaro contenuto in una cassa, poi ha infilato poche centinaia di euro in tasca, ha minacciato di nuovo i tre dipendenti se non gli avessero aperto il bussolotto d'uscita ed ha fuggito facendo perdere le proprie tracce. La rapina è stata talmente fulminea che nessuno ha riuscito a vedere se si è fuggito a piedi o se ad attenderlo ci fosse un complice. All'esterno gran parte dei negozi della via erano chiusi per ferrie, nessuno si è accorto di nulla. I cassieri hanno contattato le forze dell'ordine, i carabinieri del nucleo investigativo arrivati sul posto con la sezione scientifica e il nuovo comandante Massimo Barbaglia hanno avviato le indagini per risalire al responsabile.